Le iscrizioni e i test d'accesso ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari. Si conferma così il trend positivo degli ultimi anni. Sentiamo Rossella Romano. Quasi 10.000 gli iscritti ai test d'ingresso all'Università di Cagliari. Continua il trend positivo registrato negli ultimi anni. Al 27 agosto, data di scadenza, le iscrizioni erano 9.852 contro le 9.817 dello scorso anno e le 9.666 di due anni fa. Numeri destinati ad aumentare perché proseguono le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale ai quali è possibile registrarsi fino a pochi giorni prima della prova di accesso. Il test riguarda i corsi di laurea al numero programmato ma anche tutti gli altri corsi. È possibile iscriversi a più test di accesso per poi scegliere successivamente il corso in base all'esito. Da anni l'iscrizione all'Università comporta per tutti la partecipazione ad una prova di accertamento della preparazione iniziale. In caso di lacune formative, gli studenti vengono invitati a frequentare appositi corsi di recupero che ne allineano le conoscenze a quelle degli altri. Da quest'anno sono stati attivati in ogni facoltà speciali postazioni di orientamento con tutor dedicati a disposizione degli studenti. Tra i corsi di laurea triennale il più richiesto è quello in biotecnologie, in aumento anche scienze tecniche psicologiche, mentre continuano a suscitare interesse le materie economiche. Siamo soddisfatti che continui il trend positivo delle iscrizioni e il commento del Rettore dell'Università di Cagliari, Maria del Zompo. I numeri mostrano un miglioramento costante dell'offerta formativa, per noi un importante segnale di fiducia.